Saluti, parliamo delle Eclissi del 2024. Come ho già detto, questo è un anno di rivelazione. Quindi, in che modo le Eclissi, le lune nuove o i pieni turbocompressi contribuiscono al cambiamento quantico che avrà luogo sul pianeta quest'anno? Le Eclissi avvigliano importanti cambiamenti evolutivi, nuovi cicli, ripristini e una profonda pulizia interna. Le Eclissi possono cambiare la tua vita in una direzione completamente nuova. È una potente opportunità per uscire dalla vecchia linea temporale patriarcale gerarchica, ed entrare nella linea temporale dell'ascensione della nuova Terra. La luna piena è un momento di chiusura, completamento e conclusione, aprendo la strada all'inizio di nuove energie. È tempo di andare avanti. La prima Eclissi sull'asse nodale Vergine Pesci, si verifica al 25esimo grado Pesci, il 17 e 18 settembre, a seconda del fuso orario. I Pesci sono il segno più psichico, empatico e compassionevole. Altamente sensibili per natura, i Pesci possono fluire dentro e fuori dall'immaginazione e dalla realtà. Le imminenti Eclissi sull'asse Vergine Pesci, incoraggiano il mondo a mettere da parte gli occhiali color rosa, ad abbandonare le illusioni, a fermare l'evasione e ad essere reali. L'Eclissi Lunare dei Pesci assottiglia i veli, rivelando ciò che è nascosto nel subconscio. È il momento di rivalutare e analizzare ciò che non funziona più, e nuove soluzioni. Quando la luce è viva e attivata nella mente olografica, le tue visualizzazioni vengono proiettate nel campo quantico, portando con sé la luce. L'Eclissi dei Pesci è un potente portale cosmico per influenzare il campo con le nostre intenzioni globali. L'Equinozio arriva il 22 settembre 2024 a 0 grado bilancia, quando la notte e il giorno hanno quasi la stessa durata in tutto il mondo. È un raro portale punto zero dalle infinite possibilità. In un raro momento di equilibrio galattico, il portale è aperto a un potenziale infinito. Approfitta di questo momento opportuno per seminare le visioni e le intenzioni della tua anima. Come molti di voi sanno, la combinazione Eclipse e Equinox è sempre potente, quindi fate quello che potete per riposarvi e aumentare la resistenza. La stagione dell'Eclissi sarà un'intensificazione di due settimane di attivazioni personali e planetarie, aggiornamenti e spostamenti verso un campo di coscienza più elevato. L'ascensione globale è arrivata. Amorevolmente, canale, Meg.